un saluto a tutti bentornati su being sapiens e continuiamo oggi con un altro dialogo tra me c'era andrea giacoma e gianluca bocchi ci eravamo lasciati accennando al concetto di unicità individualità anche proprio individuazione come volevi proseguire su questa linea gianluca ma io a questo punto volevo fare un po vi assunto del percorso che ci ha portato fino a qui e quindi porre anche delle domande radicali una domanda per esempio è visto il percorso che abbiamo fatto ma che ne è delle scienze umane oggi no cioè della stessa idea di scienze umane scienze umane sociali perché il discorso che abbiamo fatto ci dice che purtroppo forse è stato necessario no ma le scienze umane sociali hanno copiato una metodologia delle scienze naturali che veniva asserita come l'unica possibile e che però oggi è messa in discussione proprio dalle scienze della natura cioè la cosiddetta scena del laboratorio no il fatto sappiamo appunto l'abbiamo già detto no il l'aspetto polemico con cui è nata no l'idea della sperimentazione nell'età moderna no contro le idee come dire che la tradizione sia fondante invece c'è stata questa scoperta dell'empiria no e quindi è stato posto l'idea del laboratorio e l'idea che ci sono esperimenti che devono essere replicabili e controllabili in modo tale che si sviluppi una verità scientifica no e questo ha portato diciamo dei risultati se non che all'interno delle scienze stesse si sono scoperte no che sono tanti ambiti scientifici in cui non puoi agire così le scienze storiche no l'evoluzionismo non è che te puoi rifare puoi fare delle cose in laboratorio sugli insetti la dosofila ma non è che puoi rifare l'estinzione dei dinosauri no fare un esperimento l'estinzione dei dinosauri la cosmologia e poi dedurre tanto il laboratorio dal big bang ma non puoi rifare il big bang no insomma ci sono queste messe in discussione di di certi presupposti epistemologici che nelle scienze della natura è stato abbastanza radicale cioè perché le scienze della natura hanno introdotto dentro di sé l'aspetto storico soprattutto con l'evoluzionismo e quindi anche sull'idea dell'unicità delle specie dell'unicità degli degli organismi no e oggi le cosiddette scienze della natura sono un intreccio tra aspetti replicabili e aspetti storici no dopodiché il discorso della singolarità si può portare anche più in là cioè perché le scienze della natura hanno detto banalmente no che sì tutti gli atomi tutti gli elettroni sono in qualche modo uguali hanno lo stesso comportamento però giustamente uno dei degli scienziati di punta oggi gli small in dice guardate che ogni atomo ha una situazione spazio temporale diversa è soggetto alle forze gravitazionali dell'universo in maniera diversa quindi esiste anche una diversità relazionale no dopodiché chi studia che so la radioattività ci dice guardate che due atomi di uranio uno sta rimane saldo per per sempre praticamente per tempi lunghi e l'altro può decadere da un momento all'altro no e lì non c'è nella struttura degli atomi nulla che faccia presagire perché uno decade dell'altro no l'indeterminazione che per quanto ne sappiamo noi è fondante poi c'è chi dice che bisognerebbe trovare una base a questa indeterminazione ma perché dico questo perché il risultato che le scienze della natura hanno fatto con tanti conflitti no una riflessione seria sui loro presupposti epistemologici soprattutto integrando le scienze storiche le quali oggi sono scienze a pieno titolo anche se non puoi rifare tutto in laboratorio il laboratorio ti aiuta ma è un elemento fra gli altri no perché le scienze storiche sono basate su singolarità e unicità di eventi allora detto questo la mia domanda è non è che le scienze umane e sociali siano rimaste drammaticamente indietro rispetto alla visione epistemologica e continuano a infertizzare una metodologia e un'epistemologia che ormai è assolutamente obsoleta no ma questo non per dire perché nelle scienze umane e sociali in realtà c'è una grande differenza di approcci di pratiche che invece vanno nella direzione che noi stiamo auspicando no allora io racconto un aneddoto che ovviamente non non è tanto legato al contenuto quanto all'atteggiamento che che c'è no allora oggi sappiamo da qualunque punto di vista lo vogliamo studiare che però c'è un fenomeno ovviamente che crea un sacco di interesse un fenomeno assolutamente perturbante che è quello che si dice near death experience cioè le esperienze in condizioni diciamo di confine tra la vita e la morte no perché quello che sappiamo oggi con la rinascita con la rivificazione proprio di tanti pazienti e no che il confine tra la vita e la morte è molto più complesso di quello che si credeva e che merita di essere studiato ovviamente siccome è un problema caldo per l'umanità lì ci sono mille approcci diversi no da quelli diciamo più materialisti a quelli invece più spirituali e quindi è un terreno di controverso però a me ha fatto ridere questa cosa a prescindere dal 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 problema che è serissimo che oggi merita uno degli studiosi che fa questa esperienza no uno dei maggiori studiosi racconta un episodio della sua carriera che lui faceva lo psichiatra bene e poi aveva diciamo questa attenzione che allora era limitata ad essere molto più grande a questi fenomeni della dell'esperienza singolare e unica di ogni soggetto no quando sei in uno stato di apparente perdita di coscienza no e lui raccoglieva la casistica no cose del genere a un certo punto lui lavorare in un'istituzione mi pare in miglia il capo lo chiama e dice senti così non va bene perché insomma il lavoro che te fai su questi casi diciamo io penso che sia interessante anzi io ho notizia anch'io di queste esperienze ma non può essere soggetto a procedura scientifica no perché ovviamente io non posso creare sistemi di controllo di pazienti non li posso mettere in quelle condizioni non posso ovviamente avere dei campioni come si dice controllabili no non posso usare le procedure di sperimentazione quindi questo rimane esterno a una pratica scientifica detto fra noi che ti fa che fa fare carriera no quindi dedicati ad altro no perché questo fuoriesce assolutamente dal discorso scientifico no ovviamente questo questo autore non ha avuto una crisi di di coscienza ha visto che lì non aveva possibilità di far carriera ha cambiato istituzione ad essere uno dei maggiori autori nel campo no allora questo è uno dei mille esempi per cui c'è una certa visione della scientificità rende ciechi rispetto alla complessità del mondo adesso io ho fatto un esempio radicale no perché effettivamente quello è un problema molto serio in cui vengono coinvolte poi le metafisiche le le visioni ma questo vale anche a a dei livelli molto più banali no eccetera allora quello che io voglio sostenere è che oggi noi abbiamo assoluto bisogno di fondare quello che possiamo chiamare le scienze umane e sociali sull'unicità degli individui l'abbiamo detto l'altra volta gli individui hanno un percorso storico unico ma hanno anche una neurologia unica perché le condizioni neurologiche di ognuno di noi sono molto dipendenti dalla storia cioè non bastano i geni non basta nemmeno l'epigenesi che è un percorso comunque in buona parte biologicamente controllato ma non del tutto ma proprio le connessioni neuronali si creano in relazione all'esperienza soprattutto all'esperienza nei primi anni di vita e poi continuano però la plasticità neuronale continua ad andare avanti insomma ognuno di noi ha un modo diverso di vedere il mondo possiamo dire in maniera più radicale che ognuno di noi ha una maniera diversa di costruire il mondo e però la cosa bellissima della specie umana non solo della specie umana ma noi parliamo di noi è che i mondi che noi costruiamo si sovrappongono a grandi a grandi come si dice a grandi linee ma che ognuno di noi contribuisce nella relazione a costruire un mondo comune no allora qui faccio un altro riflessione che forse ho già fatto ma che merita di ritornare in gioco no un autore che è stato riscoperto questo biologo estone usciul che che aveva fatto una riflessione no che avevamo già citato prima della seconda guerra mondiale sul fatto che ogni specie a livello biologico costruisce un mondo rispetto alle sue esigenze evoluzionistiche e usciul lo chiamava umwelt cioè l'ambiente ma in tedesco umwelt vuol dire il mondo che ci circonda e poi però queste specie chiuse diciamo nella loro unicità biologica interagiscono nelle altre specie in un scenario più generale che possiamo chiamare mondo ma diciamo che ogni specie allora ha un percorso diverso di arrivare al mondo e che costruisce il mondo nelle sue relazioni io mi chiedo se questo paradigma non sia fondamentale anche pensando agli umani e a radicamento biologico e quindi sia neurologico ma anche quello che chiamiamo embodiment di ogni persona cioè ogni persona ha un rapporto evolutivo in questo caso storico del suo percorso antigenetico diverso ogni persona costruisce il suo umwelt d'altra parte quello che coincisti te hai tanto da dire ci sono anche delle variabili collettive di cultura o addirittura di specie quindi ogni individuo è diverso ma non è isolato anzi ogni individuo agisce e vive nel mondo in relazione con altre diversità allora quello che voglio dire che credo che oggi chiunque sia interessato alle scienze umane e sociali ma anche poi lo diremo ai problemi di lavoro e organizzativo questa è una ricaduta pratica deve assolutamente fare i conti con questa necessità di pensare insieme la diversità e l'unità della specie umana l'ha detto già Morin che gli umani sono un'unità smultiplex ma oggi tutto questo viene messo in primo piano da quello che noi sappiamo sull'embodiment da quello che noi sappiamo sulla neurologia per cui ognuno è diverso e porta il suo contributo di diversità al mondo d'altra parte non siamo tanto diversi dal potere invece non renderci conto che nelle relazioni noi creiamo mondi insieme agli altri perché abbiamo degli elementi comuni che ci consentono di rendere le nostre relazioni positive e costruttive perché d'altra parte noi abbiamo elementi comuni anche con le altre specie e noi riusciamo a creare mondi anche rispetto alle altre specie quindi questo è uno degli aspetti fondamentali della epistemologia della complessità che quando si pensava delle contrapposizioni tradizionali quindi una contrapposizione tra un approccio standardizzante e un approccio invece come dire che sottolinea l'unicità di ogni soggetto adesso noi dobbiamo prendere l'ecologia insieme pluralità e unicità nello stesso tempo credo che ho attivato un pochino le fila del percorso a cui vogliamo arrivare ma che adesso dobbiamo articolare molto bene questa sfida perché secondo me è un elemento fondamentale non solo dal punto di vista filosofico epistemologico ma anche pratico per vivere meglio il nostro presente e il nostro futuro sì io credo che uno dei grandi contributi del penso della complessità a cui tu partecipi da tanti anni è proprio quello di accorgersi di un bias della modernità che è quello di per necessità più o meno consapevoli e inconsapevoli di un prevalere di una necessità di controllo e previsioni e manipolazione di far prevalere uno sguardo su ciò che è universale e identico e quindi più facilmente controllabile mentre pensare alla complessità dice va bene non è che è sbagliato non è che buttiamo via tutte le conquiste di un certo tipo di approccio tecnico e scientifico ma non dimentichiamoci che è una prospettiva ne servono anche altre cioè di riuscire a conciliare o quantomeno a rendere esplicito che in questo momento io sto adottando un punto di vista che vuol far andare in primo piano l'unicità per esempio parlavi dell'essere umano è ovvio che noi da un certo punto di vista siamo assolutamente unici ma dipende quale lente stiamo usando quale prospettiva ma nel contempo per esempio siamo anche rappresentanti di una specie in questo senso c'è qualcosa che ci unisce con tutti gli altri umani ma non è che c'è una contraddizione o un conflitto tra le due cose è questo piano multiplo che richiede una maggior capacità di esplicitare la prospettiva di non tenerla implicita con il rischio di diventare riduzionisti questo ha una ricaduta poi anche a livello pratico per esempio tutto il discorso che c'è in ambito di psicoterapia di psicologia clinica dell'equilibrato utilizzo per esempio dell'etichetta diagnostica che è certo che tutto il processo diagnostico ha dietro un sacco di ricerca permette un dialogo tra specialisti ed è fondamentale nel contempo porta tutto il rischio di chiudere in una gabbia la persona che riceve la diagnosi per esempio sì, io lo sento e avvengo ma chiaramente questo è un discorso anche molto specialistico è molto da affrontare però nell'ambito medico per esempio negli ultimi anni c'è tutta una letteratura enorme in ambito specialistico sull'importanza del sistema immunitario proprio anche come mediatore tra l'individuo e il mondo estero il sistema immunitario è individuale quindi infatti anche delle cure in ambiti anche molto cruciali come quelle oncologiche eccetera eccetera devono tener conto non della categoria diagnostica generale certo quella serve ma dell'effettivo sistema immunitario di un singolo individuo che deve essere rafforzato deve essere appoggiato eccetera eccetera poi ovviamente dipende dal tipo di malattia quindi anche nella medicina c'è questo tentativo questa frontiera di aprirsi al profilo individuale dopodiché uno dice in futuro con gli studi migliori della genetica ci saranno anche dei farmaci individualizzati vedremo insomma ma adesso non è una questione di futuro è una questione di presente perché quando si tratta di avere a che fare col sistema immunitario devi per forza di cose tener conto dell'unicità questo vale ovviamente a maggior ragione anche in ambito psichico per cui va bene la diagnostica eccetera eccetera però la condizione psichica di ogni persona è diversa quindi un conto è ragionare sulla diagnostica come delle categorie molto utili per creare un po' di ordine nel nostro approccio quando abbiamo parlato dei due emisferi diciamo non è che la categorizzazione dell'emisfero sinistro sia sbagliata esatto molto valida però se rimane una lente che ci impedisce poi di andare oltre di approcciarsi dalla categorizzazione generale alla singolarizzazione quello è assolutamente pericoloso qual è il grosso problema? che questa categorizzazione il primato della categorizzazione quindi il primato diciamo della diagnostica rispetto al percorso individuale non hai a che fare solo in ambito medico ma hai a che fare anche in ambito psichiatrico e psicoterapeutico dove forse invece l'elemento di individuazione è addirittura più immediato e poi oso dire questo avviene non so in tutti gli aspetti anche educativi e pedagogici quindi anche sociali e politici andando su un fatto molto più banale ma diciamo quando un insegnante pensa che il primato del suo lavoro sia come dire sviluppare un certo programma dei certi contenuti e non si pone il problema di come ogni singolo individuo può accedere a questi contenuti ecco che è una vittima di un'antica epistemologia che però sta creando anche dei grossi problemi pratici da questo punto di vista sì è anche un sistema che a livello tecnico-materiale ed è anche economico non aiuta molto gli insegnanti quantomeno in Italia ma è proprio questo che torniamo come abbiamo visto anche in altri dialoghi tra di noi questa preziosità nel prezio della complessità di proporre uno sguardo dinamico che ogni volta esplicita il punto in quel momento da cui sta partendo senza assolutizzarlo senza diventare riduzionista e nel contempo con una visione dicevamo accennavo tempo fa omeoretica no? cioè dove è un continuo nella ricerca di approssimazione alla verità non solo di aggiustamento della rotta ma anche di trasformazione del soggetto che navica tramite il viaggio no? questa cosa qua perché per molti crea resistenze perché non è standardizzabile perché a un certo punto richiede un equilibrio tra i principi replicabilità standardizzazione tutturazione anche dell'educazione dell'esperto ma poi a un certo punto deve subentrare un'assunzione di competenza di intuizione di embodiment di assunzione di un coraggio di direzione progettuale no? o di interpretazione che tu sia uno psicoterapeuta che tu sia un designer che tu sia un ingegnere un imprenditore un genitore per progettare la tua vita no? quindi questo equilibrio tra cercare di avere dei punti di riferimento ma poi ad un certo punto sei tu messo con tutto te stesso in gioco no? col tuo corpo con la tua storia con la tua mente e non puoi delegare solo a un a una tecnica o a un metodo no? questo è molto importante recuperarlo e sì direi che c'è un'etica della complessità molto generale che ci dice che non puoi fare a meno di pensare e di operare indipendentemente dalla tua individualità dal tuo investimento energetico dalla tua fatica se vogliamo anche dal tuo corpo no? per quello il pensiero della complessità non è solo una rivoluzione nell'ambito delle idee no? ma è una rivoluzione nel modo in cui noi ci rapportiamo alle idee perché non è che le idee sono lì nell'iperoranio teorico e abbiamo capito una volta che abbiamo capito appunto applichiamo le nostre ricette no? abbiamo dei punti teorici di riferimento certo che però sono delle guide per il nostro approccio che non può non essere individualizzato sul nostro corpo e sul nostro sistema neurologico no? io dico sempre che purtroppo ci sono tanti fraintendimenti perché questo aspetto no? del pensiero complesso molte volte è stato sottovalutato no? si cercano sempre di avere nuove ricette magari un pochino più raffinate di quelle sono più facili da vendere ma è proprio sbagliato questo tipo di approccio se noi non singolarizziamo il nostro rapporto con le idee non abbiamo nemmeno la possibilità di agire effettivamente sul mondo in questo senso il nostro rapporto con le idee non può non essere legato a un processo di individuazione di individualizzazione in un senso generale ma anche in un senso poi più specifico dal punto di vista psicologico dal punto di vista sociale e se vogliamo anche politico e formativo e dal punto di vista psicologico appunto mi viene da collegarmi al concetto di individuazione anzi a due concetti di individuazione di due concetti junghiani no? il primo è quello di individuazione cioè della necessità psichica tra i vari bisogni di sviluppo e di fioritura dell'essere umano è quello di darsi la possibilità e trovare le modalità per capire ciascuno di noi che è nella sua unicità indipendentemente dal contesto culturale dal contesto familiare da quello che le relazioni desiderano pretendono che noi siamo ma io nello specifico chi sono cosa sono venuto qua a fare no? quindi più che voglio una libertà di poter essere quello che si vuole che in qualche modo è più un presupposto ma non è la conclusione del processo cioè la libertà di esplorare il punto è più uno è uno scoprire chi sono no? questo generalmente avviene nella prima fase della vita e ci sono tanti riscontri in ambito poi clinico psicoterapeutico nel benessere psicologico delle persone che spesso dei blocchi delle ferite delle sofferenze psichiche hanno a che fare con l'aver aderito inconsciamente delle richieste che implicitamente abbiamo ricevuto il più delle volte in ambito del contesto con i propri genitori con i caregiver che bloccano lo sviluppo della personalità per dirlo in modo un po' sintetico per non complicare troppo la cosa poi Jung parla anche di una seconda fase di individuazione ma che necessita di aver sviluppato a sufficiente la precedente quella più personale biografica che richiede un equilibrio tra le capacità di adattamento e riconoscimento della propria unicità cioè il sapersi chiedere ogni tanto non soltanto se mi sto piazzando bene nel gioco della vita in cui sono stato gettato in questo ambito storico culturale territoriale ma anche chiedessi a che gioco sto giocando alla luce di chi sono io c'è sviluppato abbastanza questo processo di individuazione chiamiamolo personale ce n'è una più transpersonale cioè avvicinandosi al fine vita quantomeno entrando nella seconda fase della vita incominciare a chiedersi ok ma io di che cosa faccio parte da un io individuale corporeo biografico personale ci si ha ci si apre una dimensione più di mistero di relazione col tutto ma io di che cosa faccio parte e questo è un po' il processo di individuazione in un piano ma il secondo concetto di cui abbiamo già parlato tanti anni fa insieme e che ci aveva stimolato è quello dei tipi psicologici ti ricordi no? cioè qual è la funzione all'interno di un buon fondamento come prassi del conoscere dello sviluppare conoscenza è ma io sono un occhio universale generalizzabile dello sguardo umano o rappresento al ma incarno consapevole consapevolmente o inconsapevolmente un certo tipo di tipologia di sguardo magari più sensibile all'astrazione al pensiero che non è giusto o sbagliato è un tipo o più vicino al sentimento o al sentire corporeo come in modo più estroverso quindi per me prevale il comprendere aderire a quello che comprendo del mondo o prevale il comprendere quello che di cui io sono portatore internamente di una mia specificità e poi realizzato del mondo che è la dialettica tra uno sguardo estroverso che è quello mediamente più diffuso è uno sguardo introverso ecco anche questo lo si può toccare un po' con mano poi si può discutere di quanto sia aggiornabile migliorabile la teoria dei tipi psicologici di Jung ma il discorso della tipologia in genere lo si riscontra anche poi nel dibattito nella dialettica della ricerca scientifica filosofica culturale generale dove vedi che ci sono degli intellettuali degli esperti che insomma a me viene da dire palesemente forse cedo però si potrebbero associare più a un certo tipo e vedi che proprio fanno fatica a dialogare con altri tipi di tipologie no? e del resto nella sociologia della scienza o anche nella filosofia della scienza si parla di stili cognitivi no? per esempio si parla anche di presupposti metafisici no? perché allora tutte queste cose sono utilissime utilissime alla teoria dei tipi psicologici magari messe in relazione con gli stili cognitivi sempre se abbiamo l'idea che sono categorie fluide che sono un modo per ridurre la molteplicità dei percorsi di arrivare al mondo ma sempre avendo a che fare con l'idea che non riducono la personalità ma ci fanno capire delle cose per la singola personalità no? quindi è chiaro che come dire a me piace dire che la la seconda fase dell'individuazione è quando l'individuo inizia a capire che lui stesso è un creatore di mondi no? cioè quando accetta la sfida della relazionalità no? dovrebbe avere in qualche modo faticosamente compreso no? qual è il suo punto di vista il suo unvert no? il suo punto di vista dello stare al mondo avere anche capito che quello degli altri è un po' diverso e quindi entrare più con maggiore fiducia nel gioco della relazione sapendo che nel gioco della relazione non ci si adegua mai al mondo degli altri ma si crea insieme un mondo nuovo basato ovviamente sul percorso di ogni individuo no? ecco questo credo che sia un elemento fondamentale no? per capire che cosa si potrebbe o si può fare no? dal punto di vista sociale dal punto di vista del lavorare insieme e del vivere insieme no? dando l'idea che l'altro ha moltissime cose in comune con te ma c'ha anche tante diversità che noi non dobbiamo dare per scontato che l'altro sia uguale a noi però dobbiamo invece essere fiduciosi che ci sono degli elementi che possiamo dire empatici condivisi no? dal punto di vista biologico culturale sociale che ci consentono di fare questa operazione di creazione di mondi in comune no? allora è chiaro che i mondi in comune ci sono per l'unicità della specie d'accordo ma la cosa importante è che nella pratica sociale lavorativa educativa noi creiamo sempre sulla base di questa condivisione di specie dei micromondi nuovi no? allora credo che questa sia una prospettiva affascinante cioè noi non ci dobbiamo adattare agli altri o adattare agli altri a noi ma nel gioco relazionale noi portiamo tutti noi stessi per creare dei micromondi di relazione in cui noi siamo creatori ma non siamo gli unici creatori ecco non so se questo potrebbe essere un elemento fondamentale per capire come lavorare meglio e vivere meglio in comune e penso che questo può essere uno sviluppo che dovremmo fare nei prossimi nostri interventi e a proposito di sviluppo adesso chiudiamo questo video c'è un altro tema che non so se svilupperemo nel prossimo dialogo che è quello del rapporto tra unicità individuazione e transdisciplinarietà e l'essere in qualche modo dei professionisti ibridi come ci piace dire a noi cioè il come riuscire a conciliare questa molteplicità con l'individualità come riuscire nel diventare sempre più se stessi a muoversi nelle zone ponte tra i punti di vista tra le sensibilità diverse tra le discipline diverse questa è una cosa che se hai voglia magari la sviluppiamo nel prossimo video sì sì perché è un modo di stare al mondo oltre che un modo di conoscere ci sono come dire senza enfatizzare troppo le cose però il tema che noi stiamo sviluppando è che voglio dire anche banalmente le idee interagiscono sul corpo e il corpo interagisce sulle idee non c'è una distinzione platonica da questo punto di vista e quindi è un tema che merita di essere sviluppato ulteriormente bene benissimo alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.